Andiamo al segno dei gemelli, una nuova interessante, quella che transita nel segno del Leone perché mi mette in comunicazione con le tante persone, però sono dei rapporti che possono diventare a un certo punto anche confusionari, perché? Perché voi non sapete rinunciare a nulla, questo lo sappiamo, e quindi rischiate di prendere mille appuntamenti, di promettere tante cose a tante persone diverse e poi rischiate di perdere un po' il filo, rischiate di non riuscire ad accontentare il putriaco, quindi una cernita, una selezione andrebbe fatta in questa giornata, in cui avrete anche questa tendenza a parlare un po' troppo, voi ce l'avete nell'indole, questa loquacità di fondo, però in questa giornata dovreste parlare di meno e agire di più.